Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente della Regione, Donatella Tesei, ha illustrato in prima commissione il DEFR, il documento economico-finanziario della Regione 2022-2024. Il servizio di Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita per iniziare l'esame del documento di Economia e Finanza regionale 2022-2024. Illustrando il DEFR ai commissari, la Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, ha spiegato che si tratta di un documento di rilancio e di inversione di rotta rispetto al passato. Un documento snello, ma molto solido e ben strutturato, con una visione chiara dell'Umbria. Il bilancio continua ad essere in piena sicurezza, ma occorre attingere alle risorse della programmazione comunitaria e saper intercettare quelle del PNRR per proseguire sulla via dello sviluppo. Per la Presidente Tesei, il DEFR dimostra come l'Umbria abbia tenuto meglio del dato nazionale la crisi economica in termini di PIL, occupazione e mortalità delle imprese. Il 2021 per l'Umbria è stato l'anno del rimbalzo. L'obiettivo ora è trasformarlo in una inversione di tendenza duratura. Secondo i dati, il 2022 sarà un ottimo anno e l'Umbria sarà tra le prime regioni a tornare ai livelli pre-Covid. Tra le linee di indirizzo del DEFR, per la prima volta, ampia parte è dedicata alle infrastrutture per la mobilità e la lotta all'isolamento. Tra gli obiettivi da centrare c'è la lotta ai quattro mali dell'Umbria, de natalità, la spinta centrifuga dei giovani, la scarsa partecipazione femminile al mondo del lavoro e la povertà. Secondo la Presidente Tesei, sulle 16 partecipate che devono diventare un volano di sviluppo, è stato fatto un grande lavoro con una spending review di 1,3 milioni di euro l'anno, un risparmio di 1,8 milioni per il personale, oltre a più di 550 mila euro di risparmi ulteriori previsti per il 2022. Per le risorse finanziarie, oltre a quelle del PNRR su cui si sta ancora discutendo, 150 milioni arriveranno dalla coda dell'attuale programmazione comunitaria, 813 dalla nuova programmazione, 286 dal PSR 2021-2022. Il PNRR per l'Umbria ha già portato a dei risultati. 70 milioni per la cittadella giudiziaria, il rifacimento della FCU, 510 milioni per il tratto Umbro dell'alta velocità romancona, il completamento della Quadrilatero e della Fano Grosseto, 80 milioni per le periferie delle città maggiori, 22 milioni e mezzo del CIS, 20 milioni per il tratto Umbro della nuova ciclopedonale Monte Argentario Civitanova, 234 milioni per l'edilizia scolastica, 108 milioni per la sanità regionale, 87 milioni per la nuova mobilità urbana di Perugia, il potenziamento della Foligno-Terontola e la costruzione della nuova stazione ferroviaria di Collestrada. Inoltre ci sono 1 miliardo 780 milioni per il cratere del sisma, su cui è in corso un'interlocuzione con le altre regioni coinvolte. Altri documenti contabili sempre in prima commissione, via libera al bilancio consolidato 2020 della regione e a quello di previsione per gli anni 2022-2024 di Palazzo Cesaroni. Il servizio. La prima commissione di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della regione Umbria per l'esercizio 2020 e ha dato il via libera all'unanimità al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa. Il bilancio consolidato rappresenta una fotografia veritiera e corretta della situazione del gruppo regione che, oltre alla regione stessa, comprende 15 società partecipate dentistrumentali che costituiscono il gruppo di amministrazione pubblica. Il bilancio consolidato 2020 ha un risultato di esercizio di 29 milioni 385 mila euro e un risultato di gestione di 54 milioni 465 mila euro. I componenti positivi della gestione sono pari a 2 miliardi 534 milioni di euro, mentre quelli negativi sono circa 2 miliardi 480 milioni di euro. Il patrimonio consolidato è pari a 2 miliardi 964 milioni di euro. Tra le attività c'è un totale di immobilizzazioni di 1 miliardo 128 milioni di euro e un totale attivo circolante di 1 miliardo 835 milioni. Tra le passività un patrimonio netto di 548 milioni di euro. Il bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa 2022-2024 conferma la richiesta di finanziamento di 18 milioni 130 mila euro per ogni annualità. Confermati anche i trasferimenti a Gcom per circa 103 mila euro vincolati alle funzioni delegate all'Assemblea legislativa. Oltre agli oltre 80 mila euro per le trattenute obbligatorie a carico dei consiglieri regionali per l'indennità di fine mandato. Il fabbisogno finanziario dell'Assemblea per il 2022 è di circa 18 milioni 363 mila euro, per il 2023 18 milioni 330 mila euro e per il 2024 18 milioni 337 mila euro. Nel 2022 non è stata applicata alcuna quota anticipata di avanzo d'amministrazione. Le spese servono a coprire quelle per gli amministratori regionali, per l'erogazione degli assegni vitalizi, per il personale, per i gruppi consigliari, per il finanziamento del CAL, dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, del Centro Studi Giuridici e Politici e del Corecom, per i revisori dei conti, il difensore civico, l'organismo indipendente di valutazione. Queste spese obbligatorie rappresentano il principale fattore di rigidità del bilancio, assorbendo oltre l'83% del totale delle risorse disponibili. Eleonora Pace, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è stata rieletta alla presidenza della Terza Commissione Consiliare dell'Assemblea Legislativa, nuovo vicepresidente Tommaso Bori del Partito Democratico. Eleonora Pace è stata riconfermata presidente della Terza Commissione Consiliare dell'Assemblea Legislativa. Nella stessa seduta è stato eletto vicepresidente in quota minoranza il consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Bori. Il rinnovo dei vertici dell'organismo si è reso necessario dopo le dimissioni da vicepresidente della Commissione stessa di Michele Bettarelli del Partito Democratico, la cui carica era divenuta incompatibile con il suo nuovo ruolo di vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Come da regolamento si è proceduto alla rielezione a scrutinio segreto sia del vicepresidente che del presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa. Quattro voti per Eleonora Pace, tre voti per Tommaso Bori, dai sette membri componenti della Commissione Sanità e Servizi Sociali. Il nodino di Perugia, modifiche alla viabilità nella zona di Collestrada, è stato nuovamente discusso in seconda Commissione Consiliare. La seconda Commissione ha trattato nuovamente il tema del nodino di Perugia dopo che l'Aula, nella seduta dello scorso 19 ottobre, aveva deciso di rinviare in seconda Commissione la proposta di risoluzione unitaria predisposta dalla stessa Commissione a seguito di un emendamento firmato da Donatella Porsi e Simona Meloni del Partito Democratico e poi fatto proprio da tutti i consiglieri della minoranza. Emendamento che però, dopo l'illustrazione della consigliera Porsi, a cui hanno fatto seguito approfondimenti e spiegazioni del direttore regionale Stefano Nodessi, è stato respinto con i voti contrari dei consiglieri della Lega, favorevoli Vincenzo Bianconi Gruppo Misto e Michele Bettarelli del PD, Andrea Fora del patto civico, dopo i chiarimenti del direttore regionale Stefano Nodessi rispetto all'emendamento presentato, ha annunciato il ritiro della sua firma dal documento. In sostanza, veniva chiesto l'inserimento nel documento originario, come ha spiegato Donatella Porsi, del rispetto delle norme intervenute successivamente all'approvazione dei progetti riguardo la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il direttore Nodessi ha spiegato che l'ANAS sta andando avanti dopo che il nodino ha superato la valutazione di impatto ambientale nazionale e la compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente. Su quel tratto c'è un interesse nazionale rispetto al traffico. Circa l'emendamento Nodessi ha spiegato, tra l'altro, che l'opera è stata approvata prima che venisse a posto il vincolo SIC, sito interesse comunitario, ed aveva già superato la via nazionale, valutazione di impatto ambientale, con una delibera del CIPES che approva il progetto dichiarandone la compatibilità ambientale. Verrà comunque predisposta una nuova valutazione di incidenza ambientale e va sottolineato che il nodino è conforme al piano regionale dei trasporti e conforme al PRG di Torgiano e di Perugia, ha detto il direttore Nodessi. Dopo il voto sull'emendamento, i commissari sono stati chiamati a votare nuovamente la proposta di risoluzione originaria, ma, mancando il numero legale, il voto sul documento è stato rinviato alla prossima seduta di commissione, prevista per mercoledì 1 dicembre. Il Comitato per il Controllo di Palazzo Cesaroni ha ascoltato l'assessore regionale Michele Fioroni nell'ambito dell'attività di valutazione sulla attuazione degli atti di indirizzo. Il servizio di Marco Paganini. Il Comitato per il Controllo e la Valutazione dell'Assemblea Legislativa ha dedicato una seduta alla verifica dell'attuazione delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni approvate dall'Aula, ascoltando in merito l'assessore regionale Michele Fioroni. L'attività ricognitiva ha riguardato alcune tematiche specifiche, l'area di crisi complessa Terni-Nerni, gli impegni per la Treofan, le azioni contro il sovraindebitamento e quelle per la semplificazione amministrativa, la salvaguardia del comparto Monteluce, la Tissen e l'Ast, il sostegno alla ceramica Umbra e le iniziative legate al contrasto dell'emergenza Covid. L'assessore ha riferito ai commissari quali interventi sono stati posti in essere, descritto quelli in itinere e tratteggiato i risultati raggiunti attraverso le iniziative intraprese dalla Giunta regionale in attuazione delle indicazioni ricevute dall'Assemblea Legislativa. Prosegue l'attività di verifica del Comitato per il Controllo e la Valutazione sull'attuazione da parte della Giunta regionale degli impegni contenuti in mozioni, ordine del giorno, risoluzioni votate dall'Assemblea Legislativa. Stiamo purtroppo riscontrando quella che è una distanza fra quelle che sono le proposte, le valutazioni politiche e gli impegni contenuti all'interno degli atti e quello che poi realmente viene concretizzato. È chiaro che serve un cambio di passo, uno sforzo diverso da parte dei consiglieri regionali che devono inserire all'interno delle mozioni impegni puntuali, circostanziati che siano quindi misurabili e anche valutabili nella loro reale attuazione. L'assetto istituzionale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha recentemente subito alcune modifiche in seguito alla rielezione dei vicepresidenti del Consiglio, alla surroga di un consigliere regionale della Lega e alla designazione del nuovo capogruppo del Partito Democratico. L'Ufficio di Presidenza risulta ora composto da Marco Squarta, Fratelli d'Italia, Presidente, Paola Fioroni, Lega, Vicepresidente e Michele Bettarelli, Partito Democratico, Vicepresidente. Nel gruppo consigliare della Lega Enrico Melasecche, Assessore regionale, ha lasciato il posto a Manuela Puletti, che farà parte della Seconda Commissione e del Comitato di Controllo. Il gruppo consigliare del Partito Democratico sarà presieduto da Simona Meloni, che subentra a Tommaso Bori, divenuto vicepresidente della Terza Commissione. Ambiente, infrastrutture, lavoro sono le direttive in cui l'acciaio speciale Terni deve muoversi attuando nuovi modelli di produzione sostenibile. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele Carissimi, annunciando una mozione in cui si chiede l'impegno della Giunta a stimolare la ricerca e gli investimenti in nuove tecnologie per garantire un rapporto sinergico tra ricerca e industria nel settore dell'acciaio green, sviluppare iniziative utili a incentivare infrastrutture materiali e immateriali, finalizzate all'attrazione di talenti, alla formazione di nuove figure professionali, altamente specializzate, nonché valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno di AST. Sostenere infine nei limiti delle proprie prerogative funzioni la riconversione in chiave sostenibile di AST attraverso la promozione di iniziative che perseguano gli obiettivi di decarbonizzazione ed economia circolare. Infine, farsi parte attiva nella gestione delle potenziali situazioni di conflitto tra imprese, lavoratori e sindacati nella fase di trasferimento della proprietà dell'acciaio speciale subordinata all'approvazione dell'antitrust. I consiglieri di opposizione invece giudicano ridicolo e fuori tempo massimo il tentativo del consigliere della Lega Carissimi di depositare una mozione sull'AST di Terni per riparare ai danni e alla figuraccia, dicono i consiglieri di opposizione, a cui abbiamo assistito durante l'assemblea legislativa del 16 novembre quando è stata rinviata con un artificio procedurale la mozione su AST della minoranza. L'uscita dall'Aula di Fratelli d'Italia al momento del voto ha evidenziato, sottolineano i consiglieri di minoranza, una crisi irreversibile della maggioranza e soprattutto non ha prodotto alcun atto significativo con una giunta regionale che rifugge dalle proprie responsabilità. Questo dichiarano i consiglieri Fabio Paparelli, primo firmatario dell'atto, Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni, Donatella Porsi del PD, Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, Andrea Fora, Patto Civico e Vincenzo Bianconi, gruppo misto. Sull'argomento i consiglieri hanno depositato una nuova mozione. E l'unica cosa ridicola nella vicenda, sostengono invece i consiglieri della Lega, è che la mozione del PD, rinviata lo scorso 18 novembre in commissione e poi ritirata dallo stesso primo firmatario consigliere Paparelli, prevedeva impegni già svolti da tempo dalla giunta, di cui la minoranza non si era nemmeno accorta, sostengono i consiglieri della Lega, e altri invece prematuri, fintanto che non vi sarà un pronunciamento dell'antitrust sull'acquisizione dell'acciaio speciali terni da parte del gruppo Arvedi. Infine, con una interrogazione alla giunta regionale, il consigliere del PD, Fabio Paparelli, chiede all'esecutivo di chiarire se è al corrente della nuova organizzazione della struttura complessa ospedaliera di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'ospedale Santa Maria di Terni e quali atti formali legittimi ne sarebbero alla base. Nell'atto ispettivo, Paparelli sostiene che quella struttura ospedaliera sta per perdere la propria autonomia e l'azienda ospedaliera di Terni verrebbe ulteriormente depauperata. Andrebbero perciò chiarite quali siano le motivazioni che hanno portato ad abolire di fatto due strutture complesse ospedaliere per ricondurre le funzioni sotto una struttura universitaria, pur in assenza di delibere o atti aziendali di indirizzo concordati con la Regione. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la Regione, è disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.